Eccoci, siamo qui per presentare il mio ultimo libro dal titolo Cheope, la fabbrica dell'immortalità. Il libro prende spunto da una conferenza che io ho fatto praticamente un anno fa con Graham Hancock a Roma, in cui per la prima volta ho esposto la nuova teoria, la mia nuova teoria, sulla cosa serve la piramide di Cheope. E lì ho tirato fuori una serie di cose che hanno impressionato molto il pubblico e mi è stato chiesto di scrivere un libro su questo, cosa che io ho fatto. Però non mi sono fermato lì, un po' perché avevo tempo, un po' perché sono in pensione, un po' perché c'è stato il Covid e siamo stati a casa tutti quanti, le mie ricerche sono andate avanti. E quindi il libro prende ora spunto dal fatto che la piramide di Cheope è una macchina idraulica che serve per creare delle opportune frequenze che servono a staccare la parte animica di qualcuno e di introdurla all'interno del corpo del faraone, per rigenerarlo, per farlo vivere in eterno. Nel libro ci sono tutti i calcoli, tutte le cose che abbiamo detto, ma non mi sono fermato lì. E avendo tempo a disposizione ho cercato di andare a fondo e ricostruire così gli ultimi 40.000 anni della nostra storia. Partendo cioè dalla piramide mi sono chiesto chi erano i costruttori. Sono andato alla ricerca storica di questi signori che avevano il cranio allungato, li chiamiamo dolicocefali, e ho scoperto così che essi provenivano da un posto che si chiamava Atlantide sostanzialmente. Abbiamo identificato, o almeno ho creduto di poter identificare, la posizione precisa di Atlantide. Ho fatto degli studi sui miti di Atlantide e su come in realtà la tecnologia della piramide era una tecnologia molto più antica, che risaliva almeno al Neolitico. E quindi abbiamo studiato i dolmen, abbiamo studiato le diverse posizioni in cui nel mondo sono stati trovati i crani dolicocefali, cioè allungati. Sono le stesse posizioni in cui si trovano le costruzioni piramidali, sono le stesse posizioni in cui ci sono i dolmen, sono le stesse posizioni in cui la popolazione ha un'alta percentuale di fattori del sangue RH negativo. Nelle quattro conferenze che sono previste nel tour ufficiale spiegheremo momento per momento, istante per istante, tutte queste cose, facendo cioè quattro conferenze completamente diverse che approfondiranno quattro temi completamente diversi che partono però dalla costruzione della piramide di Cheope fino a raggiungere come risultato finale l'idea che sebbene siano stati i terrestri a costruire sostanzialmente queste grandi costruzioni, dietro c'era qualcosa che nel mito aveva a che fare con gli antichi dei. Comprenderemo bene che questi antichi dei sono stati poi i fondatori della moderna massoneria. Allora vi aspetto almeno in una di queste quattro conferenze che stiamo per far partire.